Si sta per concludere la seconda giornata di ricerche di una donna scomparsa a Sant'Ilario. Il paese è letteralmente sconvolto da domenica mattina, da quando non ci sono più notizie di Italia. Nelli, una donna di 84 anni che abita qui in paese, si è mobilitata tutta la macchina dei soccorsi, come accade sempre purtroppo in questi casi, quando c'è da cercare una persona scomparsa. La signora Italia, 84 anni, è vedova da tempo ed è abituata a muoversi autonomamente nelle campagne e nei boschi intorno a Sant'Ilario. Domenica mattina di buon'ora è uscita di casa e si è incambinata su una strada di campagna, in via del Lucicciolo, in località San Rocco. Lì è stata vista per l'ultima volta dalle telecamere di una abitazione privata. Domenica mattina, alle prime ore del giorno, la signora Italia è stata ripresa a questa telecamera di sorveglianza di questa villa. Questo è l'ultimo posto dove è stata vista. Si stava incamminando col suo cestello e con un secchio sotto il braccio, verso un terreno di sua proprietà, probabilmente per raccogliere della frutta. Ecco, qui in questo punto siamo nella macchia, praticamente a 7-800 metri abbondanti dal abitato di Sant'Ilario, là dove vi abbiamo fatto vedere l'ultima segnalazione con la telecamera. E questo carrello è quello che la signora Italia portava con sé. E da questo punto, il punto esatto del ritrovamento che è avvenuto nel pomeriggio di domenica, partirà la ricerca con i cani molecolari. Intorno ovviamente hanno già provveduto i volontari e le forze dell'ordine, ma sarà fatto tutto il possibile per cercare di ritrovare qualsiasi traccia della donna scomparsa.